Grazie Presidente. Allora, ovviamente il dibattito sulla ZTL è un dibattito molto acceso, lo abbiamo fatto molte volte. Nel momento in cui della pandemia aveva una logica importante dover riaprire la ZTL perché si doveva anche tutelare e far rispettare il distanziamento sociale, cosa che deve essere fatta anche adesso, ma in una modalità sinceramente diversa da come era sicuramente nei primi momenti. Teniamo conto una cosa, che la valutazione che fa la maggioranza rispetto a questo tema è che, lo ha detto tante volte anche il Presidente Enrico Stefano, del Presidente della Commissione Mobilità, che non esiste uno studio che dimostri il passaggio delle auto nelle ZTL e il rispettivo aumento del commercio. Questa è una cosa che non c'è oggettivamente l'abbattimento delle attività, delle entrate dei commercianti nel centro storico, sono dovute più che altro, e lo sappiamo tutti, allo smart working, che questo ha logiche diverse dalla ZTL, e come logiche diverse hanno altri punti per cui le persone non stanno effettivamente andando nel centro storico. La valutazione che ha fatto questa maggioranza è che le due cose sono scollegate tra di loro, però c'è un dibattito, e lo hanno detto anche alcuni consiglieri dell'opposizione, c'è un dibattito molto acceso al nostro interno e stiamo svolgendo riunioni e approfondimenti sul tema, su come rivitalizzare il centro storico, perché è un tema oggettivamente importante. L'unica cosa che noi siamo convinti è che non è attraverso questo strumento che si riattiva e si rivitalizza il commercio. Per cui, e questo è il motivo che ci ha portato, io poi l'ha spiegato bene il consigliere De Piamo, perché c'è sempre questa storia dell'apertura delle varche che è un po' ambigua, comunque parliamo di nuovo di dover bloccare la ZTL, di dover permettere l'accesso solo alle persone autorizzate, diciamo così che è la modalità migliore, per cui abbiamo fatto questa scelta. C'è un dibattito molto acceso anche al nostro interno per capire come aiutare il centro storico che si sta trovando nella fase più complicata e più difficile in questo momento, perché effettivamente forse è la zona di Roma che sta soffrendo un po' di più. L'unica cosa è che noi siamo convinti che le due cose siano assolutamente scollegate rispetto alla riapertura della ZTL. Pertanto noi a questa mozione voteremo contrari a questa mozione, ma siamo assolutamente aperti a qualsiasi discussione, a qualsiasi possibilità di rivitalizzare il commercio del centro storico, perché oggettivamente è un argomento importante sul quale stiamo ponendo un'attenzione e sul quale bisognerà impegnarsi molto per dare un concreto contributo per poterli aiutare. Grazie.